Ha nascosto 8 kg di marijuana in un deposito, ma grazie alla segnalazione di un cittadino è stato scoperto ed arrestato. È accaduto a Barletta, dove un giovane 19enne di nazionalità tunisina, ma residente nella città della disfida, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato individuato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nei pressi della propria abitazione. I militari hanno quindi deciso di procedere alla perquisizione di un deposito, rivelatosi poi essere il nascondiglio della droga. All'interno sono stati recuperati e sequestrati 8 kg di marijuana e materiale utilizzato per la suddivisione e il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne su disposizione del sostituto procuratore è stato rinchiuso nel carcere di Trani. Continuano intanto i controlli a largo raggio dei carabinieri di Andria, nella città di Canosa, dove nello scorso weekend sono stati effettuati numerosi posti di blocco. In totale sono state controllate 52 persone e 24 veicoli, 8 le violazioni alle norme del codice della strada e 3 i sequestri amministrativi di autovetture prive di assicurazione. Inoltre sono stati controllati anche due circoli privati, uno dei quali è stato chiuso al pubblico perché il 39enne proprietario aveva sottratto energia elettrica tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica. I controlli dei militari in tutto il territorio della BAT continueranno anche nei prossimi weekend.